E' dunque arrivato il tanto atteso, o forse per meglio dire temuto, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dà un ulteriore giro di vite alle disposizioni anti-Covid. Il nuovo limite è rappresentato dalle ore 18. Entro quest'orario infatti dovranno chiudere ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e pasticcerie. E' consentita la ristorazione con consegne a domicilio e fino alle 24 quella con asporto. Il consumo al tavolo sempre fino alle 18 è consentito fino a un massimo di 4 persone se non conviventi. Restano aperti i negozi, vi compresi saloni di bellezza, parrucchieri e barbieri, mentre chiudono cinema, teatri, palestre e piscine. Lo sport si potrà fare ancora all'aperto, presso circoli sportivi pubblici e privati, rispettando le distanze senza creare assembramento. Sparisce la norma che consentiva mille spettatori all'aperto e 200 al chiuso per gli spettacoli sportivi. Sono vietate feste al chiuso e all'aperto, i vi compresi festeggiamenti di battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, oltre alle sagre e fiere di qualunque livello. Per le scuole arriva l'invito, per le secondarie, ad arrivare almeno al 75% di didattica al distanza fino al 24 novembre. No a convegni e riunioni in presenza, ed invito ad incentivare lo smart working. Per i trasporti si conferma la capienza dei mezzi pubblici all'80%, mentre si raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi con tali mezzi se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Restano consentiti gli spostamenti per i comuni tra una regione e l'altra, a meno di ordinanze specifiche firmate dai governatori, che, sul DPCM, possono intervenire in asprendo alcune misure. A tal fine non si è fatta attendere l'ordinanza di De Luca, che in Campania modifica ed integra alcune disposizioni. Nella nostra regione, infatti, fino al 31 ottobre, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, le scuole primarie e secondarie restano chiuse e viene attuato il 100% di didattica a distanza, ad eccezione dello svolgimento dell'attività destinata agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e o diversamente abili. Sospese anche le attività didattiche in presenza delle università, con eccezione degli studenti del primo anno. L'asporto è vietato per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, con possibilità però di consegna a domicilio con ultima partenza alle ore 23. Si raccomanda altresì fortemente di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio ed è vietato muoversi da casa tra le 23 e le 5 di mattina se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza, ovvero motivi di salute. Per l'intero arco della giornata, infine, è fatto di vieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. È consentito il transito interprovinciale per spostamenti verso altre regioni italiane o straniere.